non privo di humor, che smonta l'immagine del rigido tecnocra che cucita gli addosso. Sendoci in questo momento e farò di tutto per mantenerlo vivo, un consenso più ampio, un clima meno conflittuale, una maggiore volontà di cooperazione tra le forze politiche e le forze sociali, credo che potremo andare più decisamente a fondo, a fondo in senso buono, fino in fondo, scusate. Incisivamente, per quanto il Presidente conosce così bene l'italiano che sa cogliere anche queste sfumature. All'Europa, che come ha detto Barroso continua...